Ciao a tutti e bentornati su Star Wars Galaxy of Heroes. Oggi con la spiegazione di quello che ha introdotto la patch del 12 luglio 2016. Come tutti voi sapete, questa patch ha introdotto i mod. Ed è, diciamo, la cosa principale su cui tutti parlano. C'è chi è contento, chi è scontento. Ma, allora, diciamo, io aspetto almeno qualche giorno, almeno una settimana penso che aspetterò, prima di fare un video riguardante esclusivamente i mod, tutte le spiegazioni, come funzionano, come non funzionano e così via. Perché comunque sono prima un attimino da digerire e capire come funzionano. Ma, allora, diciamo, in generale vi faccio vedere qui nel forum perché non hanno introdotto solamente i mod. Hanno messo un sacco di altre cose. Andiamo qui nei game update. Allora, man mano che li scorro, poi ve li faccio vedere nel gioco. Allora, qui hanno messo tutti i mod, no? E c'è un sacco di cose da spiegare, no? Però, come ho detto, questo qui ci terrei a fare un video esclusivamente riguardo i mod. Per la precisione, allora, in maniera, diciamo, molto veloce, hanno messo le battaglie mod da fare. Che, ovviamente, come ho detto in un mio video precedente, sono da fare con l'energia cantina. Questo a me non piace tanto, però, alla fine, hanno deciso così. Spero che magari in un futuro cambieranno, oppure che danno la possibilità di rifresciare un pochettino di più le battaglie cantina. Ma, comunque, una volta che li fate, diciamo, una volta terminati, sono otto sfide, no? Otto, diciamo, otto linee da seguire, no? E danno premi mod da uno o due stelle. E poi, dopo, una volta sbloccato il terzo, dal terzo in poi vi si aprirà la possibilità di fare le sfide dei mod. Le sfide dei mod dovrete avere dei team specifici, per esempio, qui nel mod salute vanno bene qualunque personaggio. Nel mod difesa solo Jedi, nei mod danni critici solo i Jawa. Dopodiché dovrete sbloccare le battaglie mod, queste qua, no? Queste qua, nello specifico. E così avrete la possibilità di farmare altri mod che vanno per i critici, per la tenacia, l'attacco, l'efficacia, la velocità. E penso che anche quelli della velocità saranno molto, molto gettonati. Detto qui, in queste sfide qua, ovviamente si trovano i mod di più alto livello, con più stelle, pallini. Chiamiamoli pallini, perché le stelle ce le hanno già i personaggi, no? E questa, allora, in linea di massima, adesso vi faccio vedere, anche nella sezione dei personaggi c'è la sezione mod, dove li potete equipaggiare. Adesso sto facendo un po' di esperimenti, quindi è per questo che li voglio spiegare poi con calma in un video dedicato solo a loro. Ma torniamo al... ecco qua, al post. Questa è una cosa che sta passando come in secondo piano, però è una figata. Cioè hanno messo il Guild Exchange. Praticamente si può, ogni 24 ore, richiedere ai vostri compagni di Gilda dei pezzi di equipaggiamento. Nello specifico, qua, nella sezione Gilda, hanno messo Scambia. Voi cliccate e, per esempio, io adesso sto richiedendo le siringhe, così, 5. Ogni 24 ore io ho la possibilità, vedete, prossima richiesta in futuro, è tra 10 ore e 41 minuti. Oppure posso donare ai miei compagni di Gilda, no? Dei pezzi. Io, allora, tipo, qua ho donato, ne ho dati due, se non sbaglio, no? Perché comunque non me ne fa più donare. E c'è comunque un limite, no, ovviamente, per impedire scambi troppo svantaggiosi. Ma, d'altronde, la gente richiederà... Diciamo che i pezzi che verranno richiesti saranno quasi sempre gli stessi. Per me saranno le pistole, le siringhe, magari i pezzi di fornace, gli holo cippalippa, lì, come si chiude, quali sono i... Madonna, non mi ricordo, ce li ho che mi servono per Anakin, questi qua nello specifico, questi, gli holoproiettori siener e così via. Già il fatto che si possono chiedere alla Gilda è, diciamo, una cosa in più. E poi comunque si facilita lo scambio, ci si aiuta a vicenda e hanno reso, diciamo, le Gilde ancora più utile di quello che già non erano. Perché comunque già hanno un ruolo molto importante. E questa era una cosa che a me è piaciuta tantissimo, ma sta passando in secondo piano. Poi, un'altra cosa molto interessante, ma che per me possono migliorare, questo, che hanno messo i sim ticket improvement. Praticamente voi, mentre prima potevate, dovevate cliccare ogni volta per ogni sim ticket, per le simulazioni da fare, voi potete andare in un qualunque nodo, no? E buttarci il massimo dei sim ticket. Cioè, qua, avete il multitagliando. Prendete, voi lo cliccate, mettete fino a tre taglianti, vi verranno tolte ovviamente tre taglianti, l'energia rispettiva, ma farete tutte le battaglie in una botta sola, senza dover stare a cliccare. Questo lo hanno fatto nelle battaglie lato chiaro e lato scuro, nelle battaglie cantina. Ci sono, è fattibile anche nelle battaglie dei mod, no? Anche questo, diciamo, è abbastanza comodo. L'hanno messo anche nelle sfide. Però, ecco, qua è la cosa che potrebbero migliorare. Perché, adesso mi sono lasciato le sfide, fin quando si tratta di, come qua, che ho una sfida, va bene, uso il mio turbo tagliando, via, lo faccio, tac, mi parte e va direttamente, senza dover stare nel tempo. Quando poi, però, voi avete un tot di sfide da fare, per esempio, io qua ne ho tre, vorrei dire, ok, ci spendo tre turbo taglianti. Non si può, ne potete spendere solamente uno e dovete aspettare il cooldown. Perché? Mettete una cosa per velocizzare, ma quando alla fine non velocizza un cavolo, boh, vabbè, è questo, sono i misteri che ogni tanto dirà. Ma, diciamo, come base buona, spero che aggiusteranno questa cosa delle sfide e diventa perfetta, per come la vedo io. Cosa hanno messo? Vabbè, hanno messo il back button revamp per tornare indietro, ma non lo so. Comunque hanno fatto presente il back button che vi riporta nell'ultimo posto visitato. Perché praticamente ogni tanto succedeva che voi cliccavate indietro e tornavate, invece di tornare magari alla schermata del personaggio dopo aver visto un equipaggiamento, voi tornavate direttamente nella schermata principale. E questo è una figata. Questo è un improvement nella perdita dell'account, che poteva essere un bug che capitava ogni tanto, no? E la gente si cagava in mano perché pensava di aver perso l'account, però l'hanno migliorato. Poi, alcune di queste cose qua, che ci sono qua più avanti, non le hanno ancora implementate nel tutto. Per esempio, dicono, abbiamo messo dei nuovi unkivement. Allora, hanno messo degli unkivement, però non sono gli unkivement questi qua, gli obiettivi. E questa è la cosa che... Ma hanno messo gli obiettivi Google Play. Gli obiettivi Google Play sono tipo l'incursione di Gilda, questo qua, risorsa della Gilda, benefattore della Gilda. Poi ne hanno aggiunte altre, tipo segreto, segreto. Però comunque a me rimane solamente una cosa che mi fa incazzare. Questo è un piccolo dettaglio. Completa la prima missione di addestramento. Io non so perché non me l'hanno data, ma vabbè, quelli dell'IA lo sanno solamente loro. Va bene. E comunque, questa era puramente una cosa di Google Play. Poi, da tutto il feedback, no? Per esempio, allora, tutto quello che voi potete toccare vi verrà dato una piccola spiegazione. Cioè, voi, pegate così, hanno messo i colori, no? Più o meno, quindi, vedete, i crediti, i cristalli, l'energia, tutto bello colorato, hanno messo praticamente un sacco di cose, no? Che, tutti i messaggi in più. Questo, vabbè, sono dei dettagli. Sono piccole cavolate che, sinceramente, per me dovrebbero sbussare certe altre cose, prima di andare nei dettagli, no? hanno migliorato gli alleati, quindi, adesso potete avere fino a 50 alleati, no? Quindi vi potete mettere tutti quei... Ah, no, ancora no, scusate. Lo metteranno più avanti perché arriverà fino a 50, però adesso, tipo, potete invitare gli amici di Facebook, ok? E, anche, comunque, questo è una cosa abbastanza simpatica, così è anche più veloce invitare gente che conoscete a giocare, e così via. Poi, cosa hanno fatto? Vabbè, questo, come ho detto, verrà aumentato a 50, così vi daranno la possibilità di aggiungervi tutti i vostri membri di Gilda, come negli amici. Poi, hanno... Ecco, questa è una cosa che c'è già, e hanno migliorato il pack opening, cioè, per quelli che comprano pacchetti a manetta, non è il mio caso, hanno dato la possibilità... Adesso, per esempio, io apro il pacchetto, viene qua in basso il pulsante salta, così non vedrete l'animazione, e vi verrà subito dato una possibilità di acquistare subito un altro pacchetto, no? È una cosa abbastanza simpatica, e va tutto più veloce. Poi, intanto, voi avete visto, no? I personaggi del lato scuro gli hanno messo lo sfondo rosso, no? Mentre, adesso vi faccio vedere, riscatta, qua. Il lato chiaro sono azzurri, il lato scuro sono rossi, e anche questo, vabbè, sono anche qui, come ho detto, piccoli dettagli, ma fanno sempre piacere. Poi, hanno messo, le attività della gilda hanno messo direttamente dei bottoni, dei pulsanti alla home screen, nella hood della home, cioè praticamente quando, ad esempio, la mia gilda adesso ha attivato un ride, mi viene segnalato qua, io posso cliccare e andare direttamente nell'interfaccia della gilda, e poi dopo cominciare a tirare mazzate nel ride, no? Che questo è un miglioramento simpatico. Ovviamente poi hanno messo, stanno facendo giustamente alle attività della gilda, no? E questa ancora io non ho capito bene, no? Perché poi comunque lo rispiegano, però è ancora un pochettino complicato, perché per esempio, vedete qua, i fondi della gilda giornalieri prodotti 48.700, anzi, io sono a 48.582, ma non lo so da dove li tirano fuori questi punti, però sono calcoli loro. L'importante è che non rompono il cazzo con i fondi della gilda. Questo, così. Vabbè, qui ho spiegato le shard col background, poi metteranno dei nuovi personaggi. Nello specifico metteranno due jawa, no? Il capo Nervit, Debit, dovrebbe essere come traduzione, che lo troverete negli Arena Shipment. Infatti io da oggi ho deciso di risparmiare un pochettino, perché mi serve un jawa per fare le sfide dei mod dei jawa. Eh, semplicemente per questo qui. Poi ci sarà lo jawa scavenger, che lo troverete nelle shard di cantina. Questo richiederà molto meno shard, 25, quindi è abbastanza comodo. Poi hanno messo un nuovo clone, no? Il CC2224 Cody, no? Che questo sarà variable solo nelle Chromium Pack, no? Quindi è un personaggio per i pay, no? Poi, cosa hanno fatto di cambiamento agli altri personaggi? Area Sicura non è più un personaggio Chromium, ma l'hanno messo anche nelle battaglie cantina. Stage 5, missione 2. Non ho controllato se l'hanno effettivamente messo. Stage 5, missione... Ah, ok, non l'hanno ancora messo, ma lo metteranno comunque prossimamente, perché adesso stanno, come ho detto, stanno facendo degli altri... Stanno facendo degli aggiornamenti un pochettino minori, perché comunque per i mod già hanno in mente di fare oggi un aggiornamento. Anche per questo non ho voluto trattarli, no? Per il momento. Poi hanno modificato un pochettino la Giganossian Spy, Zem Wessel, no? E dopodiché ci sono dei misc change. Praticamente potenza e tenacia sono stati normalizzati da 0 a 100, ottenibili tramite i gear, no? Quindi non si supererà il 100, ma con il gear, ma si supererà però utilizzando i mod. Quindi che questi sono calcoli che fanno loro nel gioco. Poi si vedrà comunque cosa succederà nel gioco. Poi hanno aumentato il payout della guerra galattica, che sinceramente io ho pubblicato... Ieri ho fatto una guerra galattica, ho pubblicato anche il video, no? E non mi sembra che mi sia cambiato... Cioè è cambiato poco, eh? Il payout. Contando che, facendo la prova, che un mod da potenziare, quelli a 5 palline, un mod da potenziare a 5 palline, vi richiede circa 350.000 crediti. Uno, no? Per me il payout della Galactic War l'hanno aumentato di un 10-20% al massimo, ma non mi sembra abbastanza fattibile. Cioè dovrebbero aumentare ancora di più. Certo, hanno messo l'evento delle canaglie che uno ha la possibilità, perché non è sicuro, di prendersi un milione di crediti, ma questa è un'altra storia, no? Poi hanno cambiato il Critical It, l'hanno messo in chance di critico, facciamo questo qui e così, il Nubian Scanner 7 verrà rimosso dagli shipment e gli verranno messi il Nubian Design Tech MK6. Poi questa qui è la cosa del Daily Activity della Gilda, la contribuzione che, adesso l'hanno cambiato un pochettino. Questo sistema lo si può vedere sotto la Gilda Activity e fa un track di ogni progresso dei membri. Bu, questa ancora non l'ho capita bene come funziona. Poi, a tutti i guild leader, quando loggheranno, o meglio, quando hanno già loggato, hanno ricevuto della currency, delle monete di Gilda, perché sono successe vari problemi nei raid, e quindi hanno pensato di dare questi, per i bug, hanno pensato di dare questa ricompensa. Poi, questa è un'altra cosa, scritta in piccolo, ma cazzo, la dovevano scrivere belle in grosso, perché questa è una cosa che mi sta pure dimenticando. Quando guardate le abilità di un personaggio, vi danno l'effettivo cooldown, e questo, cazzo, finalmente, è una cosa che serviva. Cioè, voi andate su un personaggio, tipo Ray, in flusso, e, vedete qui, quanto tempo ci mette a ricaricare. Cazzo, finalmente, lo hanno messo dopo mesi di gioco, per fortuna. Cioè, queste sono le cose che devono mettere, che sono importanti per i giocatori, no? Poi, le stat del personaggio, sono, si vedono, diciamo, meglio, e anche, per il layout, e per il display, è proprio meglio. Comunque, infatti, avevo detto che, nel mio video precedente, che già avevano fatto, dei piccoli miglioramenti, miglioramenti grafici, poi, gli eventi, gli hanno cambiato posizione, come avete, avete potuto notare, no? Perché prima, gli eventi erano qua, adesso, li hanno messi, da questa parte, no? Davanti al tipo, che si sta, pesantemente, alcolizzando. Non vedo l'ora, poi comunque, che vengono altre cose. Ah, ecco, è vero, un'altra cosa, ci sono qua i rifornimenti mod, è una cosa, che è proprio veloce, però, io fino adesso, ho visto solamente, a quelli a 1 e 2 pallini, quindi, lasciamoli stare dove sono, poi specialmente, uno solo lo comprate con i crediti, gli altri, due, addirittura, le altre li comprate con le, con le, con le shard, lasciamo stare, no? Ma anche questo, lo approfondirò nel, nel video dei mod. poi, dopo questo qui, l'area 20, ok, hanno aggiunto due mappe, durante i combattimenti, se avete visto, il cammino landing pod, quello con la pioggia, e il genosis catacom, anche simpatica, dopodiché, hanno aggiunto, pa pa pa, mille, milla bug, allora, i personaggi non possono doggiare, quando stunnati, ok, questo, figata, i personaggi, i nemici stunnati, potrebbero, anche the application, questo, allora, queste, se stunnate qualcuno, quando, come si dice, quando lo stunnate, lo uccidete, prima del, forse, stroturno del personaggio, un casino, comunque, in pratica, cose per le, per i personaggi stunnati, hanno, le hanno, le hanno fixate, mettiamola così, ok, eh, poi, i gear item, eh, presenti nelle gild shipment, eh, saranno nel, nel find flow, allora, pa, pa, allora, vedete, un attimino, negozi di gilda, sono questi qua, li potrete trovare, quando voi, premete il personaggio, il, vabbè, quando ha un personaggio, manca qualcosa, diamo così, questo, cerca, adesso vi viene, se è disponibile nel negozio di gilda, vi viene, eh, vi viene detto, poi, cosa abbiamo, il vostro, grand master yoda, cosa abbiamo, di altre cose, eh, ok, hanno fixato, che quando due personaggi, attaccano, nello stesso momento, uno in arena, uno, il secondo, di tempo, viene, viene stuccato, viene bloccato, in un loading loop, no, quindi rimane lì, bloccata la schermata, nel loop, eh, poi, chiudere l'app, eh, quando succedevano cazzi nella guerra galattica, che venivate spazzati via, e non ve ne rendevate conto, prima si poteva chiudere, eh, l'applicazione, nel, the fat screen, nella, nelle immagini di sconfitta, nel, nella schermata di sconfitta, e riusare la squadra, non si può più fare, ok, perfetto, eh, questo è, was not tapable in cantina shipment, no, cantina, credit currency, allora, la cantina, i credit della cantina, tapable, questo, questo non ho, non l'ho capito, no, in cantina shipment, io, allora, da quello che ho visto, hanno dato la possibilità, no, di, come si chiama, di riscattare, oltre che, nelle battaglie cantina, nelle battaglie mod, e, nelle sfide mod, danno la possibilità, di riscattare, questa è una cosa che, però, non so che bug, che bug c'era, su questa cosa, qui del tapable, poi, avere multiple inbox message, si, si vedevano magari, i messaggi scritti, con font diversi, hanno aggiustato anche questo, eh, questi, sono, dei fix, sulla, daily gear, gear collection, nelle attività, eh, che magari, non vi faceva tornare, al personaggio, eh, allora, questo qui, la, guardia gamorreana, che è questa, in, come si chiama, non era considerata, una special ability, quindi magari, non faceva triggerare, certe cose, adesso, eh, adesso si, ok, eh, eh, praticamente, non era, non era consistente, quando è, quando prendete protezione, adesso, funziona tutto alla grande, eh, questo, eh, vedete, eh, qui hanno aggiustato, alcune abilità, che potevano, eh, che potevano essere, triggerate per sbaglio, le hanno fixate, e poi, dopo hanno, hanno aggiunto un altro, scatto, mille, mille cose, che sono, di personaggi, no, li hanno, li hanno fixati, no, e, quindi, vedete, vedete, questo, questa è un'altra cosa, che, quando uno ha tanti healing buff, eh, appariranno, prima non ne vedevate, ne vedevate solamente uno, adesso ne vedete anche più di uno, questo, vabbè, mh, è una cosa che non so, se, se ha effettivamente uno scopo utile o no, o non utile, se era una cosa, che, però vediamo un attimino, hanno migliorato il frame rate, come ho detto, per la sezione grafica, eh, e poi niente, hanno aggiustato, hanno aggiustato la, la, la grandezza, questo è importantissimo, hanno aggiustato la grandezza della guardia gomorreana, comunque, mh, io penso di avervi spiegato, diciamo, tutte le cose più importanti che c'erano da sapere su, su questa patch, adesso non rimane che giocare e vedere come, come girano questi mod, se girano bene o male, io di me vi posso dire, ieri ho avuto un attimino di sconforto, no, specialmente nelle, nell'arena, ma, diciamo, io forse ho la fortuna di essere capitato, in un, in un, in un server, dove ci sono, penso che ci siano al massimo, eh, tre per, tre, forse quattro persone che, che pagano, no, che hanno, che hanno sganciato soldi nel gioco, e sono fortunato, non mi ha influenzato tantissimo, la posizione, perché rimango, cioè, riesco sempre, anche come ieri, anche oggi sono riuscito a rimanere tra i primi dieci, no, quindi ero al settimo posto, e mi va bene, però bisognerà vedere, eh, in un, cioè, adesso che le, eh, che li ribilanciano i mod, hanno detto, vediamo se non fanno una cazzata, eh, sulla cazzata, e io spero di no, quindi, eh, spero che il video vi sia piaciuto, se sì, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, noi, ci vediamo al prossimo, e, ciao ciao! Ciao!